Harley Davidson Livewire è la prima moto completamente elettrica del marchio. L'alimentazione viene ricavata da una batteria agli ioni di litio che può essere ricaricata da una presa domestica standard o da un caricabatterie rapido commerciale. Le luci, il clacson, il display TFT e così via sono alimentati da un'alimentazione separata, 12 volt. Sette modalità di guida, tre delle quali possono essere impostate dal pilota, possono calibrare l'ABS standard, il controllo della trazione e l'erogazione di potenza. Per quanto concerne i freni, all'anteriore ci sono le pinze Brembo monoblock che mordono due dischi da 300 mm. Ulteriori informazioni, compresi i prezzi, la gamma, le prestazioni e così via, verranno rilasciate l'anno prossimo.